molto delicato dopo l'eliminazione in Coppa Italia, tutta la gente si aspettava il massimo da noi giocatori, penso che oggi anche non facendo una grande partita siamo riusciti a ottenere una vittoria meritata. Una vittoria meritata, comunque un po' sofferta, vero Beppe? Insomma la Roma non ha avuto un gioco spumeggiante, però un buon segno forse quello di vincere a partire. Sì, credo che la Roma dopo gli ultimi episodi che sono successi in settimana ha sommentato un po' in contratta e quindi credo che soprattutto a prima mezz'ora si sia trovata in difficoltà, poi è normale che sapevamo la forza di questa squadra, poi con giocatori come Francesco, come Battistuta che ti possono far gol in qualsiasi momento, sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare e alla fine credo che la Roma abbia vinto anche, forse meritatamente, forse non nel primo tempo, però per quanto ha fatto nel secondo tempo.